Ciao a tutti, mi chiamo Michela e oggi vi preparerò la mia torta nuova, però con la variante. Metterò un po' di uvetta sopra, un'aggiunta di uvetta al rum. Partiamo con il fare la crema. Le uova sono due, due torri. Due cucchiai di zucchero. E cominciamo a mescolare. Dopo mettiamo anche due cucchiai di farina. Aggiungiamo piano piano il latte. 300 grammi, 300 ml di latte. E poi... A buccia... Il limone. E possiamo accendere. La crema si sta addensando. Il momento che comincia a fare un po' di bollicine... Spengo. E' una pedina densa. Abbiamo tolto la buccia di limone e la versiamo in una ciotola a raffreddare. Allora, a questo punto la crema è pronta. Va solo fatta a raffreddare. Ci mettiamo la pellicola a contatto. Per non far venire la crosticina. A questo punto la crema è pronta. A questo punto la crema è pronta. E parliamo alla base della torta. Tre uova. Uno. Due. Tre uova. E gele. Poi mettiamo 160 grammi di zucchero. E con il frullatore cominciamo a moltare le uova. Il composto è... Montato, aggiungiamo il latte senza 30 grammi di latte. A questo punto mettiamo la scorza del limone dentro l'impasto con il dito. Spieghiamo tutto e continuiamo a fuggire la marina, mettiamo il cucchiaio del caffè e la farina setacciata. La farina sono 120 grammi di farina. 100 grammi di olio di sedio. Poi mettiamo una pistina di lievito. Lo sentiamo e si deve fare meglio. Una marisa, come mi hanno detto, una marisa. Prendiamo una teglia. Non so la misura ora di questa teglia. La crema è fredda. Ho accesso il forno a 180 gradi. Poi bisogna vedere la forma a forno, la templatura. Io la metto a 160 grammi di olio di olio di olio di olio di olio. Prendo l'ovetta. La strizzo. Un pochino. e la metto sul dolce prendiamo una sac à poche la crema la crema molto densa facciamo un taglio in fondo e la mettiamo sopra il dolce facendo delle strisce come se fosse una prostata il dolce è pronto per andare in forno a 180 gradi e a 45 minuti il dolce è pronto adesso tagliamo il dolce ancora un po' calvino per vedere come è venuto all'interno è morbida la crema è scesa anche un po' l'obietta la crema è scusa sopra Grazie a tutti.